Vediamo se riusciamo a mettere fortuna 3 su... Molto bene, molto bene sul piccone in diamante! Signori, ragazzi, amici! What? E ciao amici e bentornati in un nuovo video della nostra Minecraft Vanilla. Allora, oggi ho l'ultimo episodio un po' lentino forse, perché dobbiamo prepararci al meglio ai prossimi episodi. E cosa fare se non il piccone perfetto? Allora, io ho farmato veramente tanto, tra cui del quarzo che ce l'ho qui, ho farmato un sacco di cibo, un sacco di mucche, per andare a prendere i libri che ci servivano per fare tutti quanti gli incantesimi, ma prima di concedere con tutto questo vi faccio vedere al volo quello che ho fatto. Non è nulla di che, però, come vedete, io non c'ho l'optifine, infatti stavo premendo C, ma non faceva nulla, chissà come mai. Come vedete, ragazzi, ho appena finito di sistemare una parte dell'isoletta, perché ancora ci vorrà tantissimo. Quella è l'isoletta su cui andremo a fare il nostro mob spawner, che avrà le sembianze di un faro. Il posto, secondo me, è perfetto, è fantastico, è preciso, ma non ho fatto solo questo, perché prima di fare quell'isoletta fantastica lì, prima di sistemare quell'isoletta, sono andato a fare un salto nella nostra fantastica e incredibile miniera, che si è leggermente, un pochino, giusto qualcosina, ampliata. Ebbene sì, perché fino a là in fondo c'è tanta, ragazzi, di quel materiale, tante di quelle robe scavate che non avete idea, ma dopo le vedremo per bene, perché ora andiamo a fare, per l'appunto, il nostro spazio per gli incantesimi, ma non solo, andremo a creare il nostro, appunto, piccone. Perfetto, perché ci servirà, ragazzi, troppo materiale, ma veramente tanto, e visto che tutto quel materiale, scavarlo, sarà veramente tosta, ho detto, ok, io scavo in miniera, raccolgo il minimo indispensabile di materiali, e una volta che ho fatto il piccone con fortuna 3, fortuna più alta possibile, torno in miniera e raccolgo tutto quello che vedo, perché appunto, ragazzi, purtroppo ci serve tanto di quel materiale che, se non faccio così, non ne vengo più a capo. Quindi, per prima cosa, dobbiamo assolutamente tornare dai nostri amici villagers e rubargli tutte le librerie che la volta scorsa non abbiamo preso. Mi pare fosse una di queste casette, teoricamente... Eccola lì, perfetto, guarda, ragazzi, guarda quanti libricini ci sono a nostra disposizione. Spero che siano parecchi, 9 libri, e basta, e basta? Tutta questa strada per 9 libri? No, dai, dimmi che c'è altro, per favore, non posso fare solo 9 libri. Ecco qua, e infatti, altri 9 libri per noi, ragazzi. Anzi, no, aspetta, ma ne ho mancato uno, allora? Aspetta, 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 mi sa che ho mancato una libreria dai villager qui. Se non erro, vediamo se l'ho mancato oppure no. Eccola qua, voleva scappare dai, e invece l'abbiamo messa in saccoccia. Per poter incantare un oggetto a livello 30, c'è bisogno di 15 librerie. Facendo un rapido calcolo, sono 45 libri, quindi a noi sarebbero semplicemente... Ma è la parte... dove sto andando? Mi sono perso? Ah, no, ok, eccoci qui. Dicevo, ci serviranno semplicemente 21 libri e tanto legno, ma di quello ne abbiamo in abbondanza, per andare a incantare al massimo il nostro piccone. Allora, prendiamo questo, prendiamo le nostre sugar cane e canna a zucchero, le trasformiamo tutte quante in carta, che comunque, ragazzi, ne ho piantate veramente tante, ne ho piantate, quindi non c'è problema per quanto riguarda il canna a zucchero. E ora andiamo a fare i nostri libricini. Ne ho fatto qualcuno in meno, e qualcuno in meno, ragazzi, pensavo di averne fatte addirittura in più, e invece dobbiamo attingere a nostra fonte di canna a zucchero. Dovrebbero comunque essere sufficienti, ragazzi, tranquilli. Ed eccoci qui, uno sta che 20 di canna a zucchero sono più che sufficienti, ragazzi, dovrebbero essere... fin troppe, fin troppe le abbiamo fatte. Guarda, ne facciamo altri... no. Ne facciamo altri 10... 47 libri sono più che sufficienti per quello che ci serve. Ora, dobbiamo semplicemente prendere tutta questa legna... Mi sa che non basta questa legna, sapete, amici? E invece sì! E invece sì che basta, amici! Allora, come ultima cosa, parte più importante, dobbiamo fare il nostro tavolo degli incantesimi. Che non è qui, perché ci serve l'ossidiana. L'ossidiana che mi ero completamente scordato di prendere prima di iniziare questo video. Per fortuna abbiamo una nostra riserva di lava portatile vicino a casa, che non mi ricordavo di avere, ma a quanto pare siamo stati parecchio fortunati. Quindi piccone di diamante alla mano e giù a scavare quattro blocchi di ossidiana. Ok ragazzi, presi quattro pezzi di ossidiana, torniamo alla nostra... Casa è troppo chiamarla, diciamo che è un ammasso di cose che ci serve per non perderci. Due diamantelli e un libricino che già abbiamo. Quindi se vado a memoria, sbaglio? No che non sbaglio! Il tavolo degli incantesimi e dobbiamo soltanto scegliere dove fare la zona per gli incantesimi. Allora, io propongo di farla qui. Tanto ragazzi non ci interessa che sia un punto buono. Questo è tutto, è tutto momentaneo ragazzi. Perché poi, una volta che avremo fatto le nostre farm, tutto quello che servirà per partire in quarta... Me la prende comunque così? No! Non me la prende comunque così! Sono un cretine! No, no, ho sbagliato tutto quanto. Ho sbagliato, aiute, aiute! Dicevo, una volta che saremo partiti in quarta, potremo... Oh, perfetto. Indistruttibilità? Eh, fortuna 1? No, non ci piace. Adesso vediamo come girare a nostro favore queste cose. Dicevo, una volta che saremo tutti quanti belli partiti con le farm, ragazzi, faremo una casa. Ho già i progetti, ho già cosa fare, ho già in mente tutto. Mi serve solo avere le farm che mi permettono di fare questo. E poi ragazzi, fidatevi, sarà una bomba. Dormiamo perché non è bello fare le cose di notte, anche perché non si vedrebbe nulla e non voglio avere 400 mob intorno. I nostri lapislazuli... Ce li abbiamo, i lapis da... Amici? Amici! Non ho lapislazuli! Allora, momento di panico! Oltre all'ossidiana ho dimenticato anche i lapislazuli. Dovrebbero esserci giù in miniera. Vado a prenderli al volo. Adesso vediamo, controlliamo se ci sono oppure no. Dovrebbero esserci... Eccoli qui! Oh! Ok, lapislazuli per noi. Ne prendo qualcosina in più giusto per... Non ne prendo altri perché poi appunto servirà con fortuna. Guardate qua ragazzi, guardate quanta roba ancora non ho preso perché sto aspettando questo piccone con fortuna. Ragazzi, non volevo spoilerarvelo, però ormai è fatta. Adesso vi faccio... Vi prendo il piccone. Andiamo a incantarlo e vediamo un po' cosa esce. Dicevamo, il piccone ha indistruttibilità. Io non voglio rischiare. Facciamo così. Prendo una spada in diamante. La faccio al volo. Vediamo un po' sulla spada cosa ci esce. Lama sferzante, indistruttibilità e anatema. Non è per nulla buona ragazzi. Direi che il primo giro lo diamo al libro che ha letalità 3. Questo giro la spada staccheggio 2 che sarebbe veramente buono. Tocco di velluto non è quello che vogliamo ma proprio mai nella vita. Io farei così, visto che potrebbe esserci comoda la spada in diamante con looting 2, saccheggio 2. Mi serve questo libricino, lo facciamo volare con una tema 1 e mettiamo affilatezza 4 che wow, questo la voglio, ma c'ha efficienza 4. Allora, io ho dell'esperienza da parte in saccoccia. Cosa vuol dire? Che ho cotto parecchio ferro che ho trovato, quello ancora vecchio l'altra volta, quindi posso accumulare altra esperienza. Ora, secondo me, proverei il piccone. Sperando che non esca solo efficienza, però fortuna 3 ragazzi... No, 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 ho troppa paura. Facciamo la spada, affilatezza, vai. Ok, ok, questa spada è molto buona. Indistruttibilità e affilatezza, questa è veramente buona e niente, unbreaking pure sul piccone. Non basterà mai ragazzi, non basterà mai. Ragazzi, non è abbastanza, mi tocca andare nel nether e scavare il quarzo, è l'unica opzione. Mi serve avere di nuovo altra esperienza e vediamo un po', speriamo che ce la mandi buona questa volta. Ecco, in questo momento mi manca veramente tantissimo la mia farm degli enderman nel nether, ma ragazzi, quella farm lì per expare è non perfetta di più. Qui c'è del quarzo che non avevo per nulla notato. Perfetto, va bene, ok. Nel quarzo c'è una casa, va benissimo, continuiamo così. Mamma mia, di fianco ho una cascata di lava. Mamma mia, che brutto posto. Ok, allora, uh, questo è un trader, fermi un secondo, ha roba interessante, no, non ha nulla di un trader, vabbè, niente, un trader è schifezza. Allora, ho farmato il 30 livelli, ho preso un bel po' di quarzo ancora, che andiamo a mettere giù nella cesta che adesso non ci serve, ma la cosa più importante è che io pazzo col piccone in diamante nell'anno della nether, che, lapislazzo di qui alla mano, vediamo se riusciamo a mettere fortuna 3 su... Molto bene, molto bene sul piccone in diamante. Signori, ragazzi, amici! What? Cosa sto leggendo, amici? Che piccone è venuto fuori? Cosa è questo piccone? Che cosa sto vedendo? Ora voglio andare in minera e riempirmi di materiali, ragazzi, come non avete... non avete idea. Io sono... ho passato veramente ore lì sotto, e ogni volta che trovo qualcosa, un materiale o un diamante, dovevo per forza lascerlo stare, perché purtroppo ho detto, dovevo farmi forza, dire, no, devo scavarlo quando avrò il video pronto. Quindi, ragazzi, non avete idea della voglia che io abbia in questo momento di andare giù e scavare tutto quello che è vero, tutto quanto. Siamo completamente vuoti, ragazzi, abbiamo solo 9 nugget in questo momento, è vero, ci mancherebbe mending, ma mending potrebbe essere un po' difficile a trovare. Io sto andando di questa parte, perché mi ricordavo che c'erano dei diamanti, che c'erano dei bellissimi diamanti che mi stavano aspettando, sì... Perché abbiamo fatto già 10 diamanti, ragazzi, abbiamo già fatto, abbiamo fatto un sacco di diamanti. In un secondo, guarda pure qui l'oro, l'oro, guarda quanto oro che non serve a nulla! Non è vero, dovrebbe servirci per delle cose in red, non lo so, io lo prendo comunque, che se ne prende pure il call. Dove abbiamo lasciato tutte le altre cose, guarda qui, guarda quanti diamanti! Ci siamo presi anche un bel po' di redstone, ragazzi, poi... E che so che ci sono tanti di quelle robe avanti, io dico, ma non devo scavare qui, perché comunque non serve che scavi qui, e invece mi fermo a scavare perché c'è troppa roba, ragazzi, c'è veramente troppa roba, poi scavare finalmente, non coi picconi in pietra, ma col piccone in diamante con efficienza 19, è la cosa più bella di questo mondo. Anche il ferro, ragazzi, guarda che bello, il fatto che cada più ferro di quanto ne raccogli, che soddisfazione questa 1.17! Mamma mia, tuvi mi giro, c'è roba da scavare, ragazzi, è incredibile! La redstone, ragazzi, pure la redstone ci servirà tantissimo... Bene, prendiamo altri... Oh, sì, 39! 39 diamanti, ragazzi, 39! Abbiamo fatto già il livello 30 ancora! Mamma mia, altri diamanti, altro ferro, altra redstone... Che... Quanto ho scavato, ragazzi, qua... Voi non so se vedete quanto è effettivamente lungo questa galleria, ma, ragazzi, ci sono vute ore per scavare tutta questa roba qui e finalmente tutto è ricompensato. C'erano i diamanti, se non sbaglio, a qualche parte? Dove li ho lasciati? Li ho tralasciati? Eccoli qui! No, che non si tralasciano i bei diamanti, no, che non si tralasciano... Ah, ah, solo uno? Non è vero che era solo uno, sono mol... Ma non so, sono tre, vabbè, vabbè. Eccoli qui, questi dovrebbero essere gli ultimi diamanti di oggi. Oddio, ho sentito un creeper cadere, tipo, mamma mia, quanti mostri sento? Ma io quante gallerie ho schivato, per pura fortuna, ve lo spiegate, ragazzi. E la nostra miniera è pressoché finita. Oltre ad aver fatto quattro livelli di esperienza semplicemente scavando cose, che è qualcosa di assurdo, ragazzi, perché in niente ho fatto dal 26 a quasi il 32, quindi veramente tantissima esperienza, abbiamo fatto una marea di oggetti. Ragazzi, guardate quanta roba abbiamo fatto, in giro di due minuti, scavando semplicemente quello che avevo lasciato per strada mentre scavavo queste gallerie. Ora, tutto non è completamente finito, perché potrei scavare veramente tanto ancora, potrei snocciolare questa miniera, ma, ma, ora arriva la parte migliore, ragazzi, perché la prossima volta io preparerò tutto quanto e andremo a costruire il nostro vero e proprio mondo di Minecraft nella 1.17, perché, ragazzi, finalmente abbiamo un piccone che ci permette di farmare tutto il materiale, che ci permetterà di creare a sua volta le farm che farmeranno automaticamente tutti i materiali, e, ragazzi, saremo poi inarrestabili per tutti i progetti che ho in mente. Quindi, ragazzi, io spero che il video di questo fantastico e incredibile piccone vi sia piaciuto e di questa raccolta infinita di materiali vi sia, per l'appunto, piaciuta. Vi ricordo di lasciare un like e un commento, se così fosse stato, a parte questo trader totalmente inutile, che ci bazzica in giro. E nulla, ragazzi, io vi ringrazio ancora, ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao! Ciao!